ciao a tutti e benvenuti alla lettura del cielo del mese di ottobre 2022 vi dico subito che sarà un mese particolarmente intenso quindi partiamo subito e partiamo con le due lune troveremo come sempre una luna nuova e una luna piena partiamo con la luna piena che sarà il 9 di ottobre tardi però quasi intorno alla mezzanotte cioè praticamente tra il 9 e il 10 e sarà ovviamente con il sole nel segno del bilancia e di contro la luna nel segno dell'ariete già di suo questa è una lunazione piuttosto forte perché la luna inariete è particolarmente potente non tanto quanto ad introversione ma quanto ad estroversione cioè desiderio di voler essere vista e raccontata e imporsi versus invece il sole in bilancia che tende invece ad essere un sole che ricerca la calma l'armonia e quindi che spesso decide di sottostare a delle regole quindi c'è uno scontro piuttosto forte in più questa lunazione avverrà con la quadratura tra marte e nettuno che ci porteremo dietro per un po di tempo questa quadratura della quale parleremo dopo in modo approfondito è una quadratura che amplifica il senso di subuglio e soprattutto avviene ovviamente con l'altra importante quadratura che è quella che rappresenterà tutta questa seconda parte del 2022 cioè l'ultima quadratura tra saturno e urano di questa quadratura abbiamo già parlato tantissimo è proprio un momento di scontro un momento in cui tutte le strutture sociali politiche economiche vengono a crollare da tempo parliamo di urano che si trova in questi anni nel segno del toro dove il toro è un segno legato proprio alla stabilità economica urano è il segno invece dei cambiamenti soprattutto quando urano viene contrastato da saturno per cui diciamo che ancora questa luna piena in ariete è un momento decisamente di tensione successivamente la luna nuova che ci sarà sarà quella in scorpione del 25 di ottobre e in questo caso poco poco prima del luna di pomeriggio orario pranzo insomma questa luna nuova sarà a due gradi del segno dello anzi a un grado del segno dello scorpione ma sarà una luna nuova di in eclissi quindi sarà un eclissi di sole eclissi di sole come sappiamo le eclissi avvengono sempre in minicicli in questo in questo anno nel 2022 23 avverranno sempre sull'asse toro scorpione di nuovo è un asse particolarmente potente perché parla di nuovo del toro quindi della nostra stabilità che viene messa in discussione a favore però di un rinnovamento lo scorpione segno del rinnovamento della rinascita quindi ancora di più questa questa eclissi è un momento di grande cambiamento ricordatevi sempre che tutte le persone che compiono gli anni intorno all'eclissi cioè diciamo nei due giorni precedenti nel giorno e nei due giorni successivi hanno un anno di grande cambiamento chi li compie in questo caso intorno al 25 di ottobre vive l'eclissi di sole e quindi è un cambiamento proprio attivo della parte attiva cioè del sole questa eclissi di sole soprattutto in italia perché chiaramente poi l'eclissi avviene con un ascendente diverso in ogni parte del mondo in italia visto che l'ascendente si trova in opposizione a marte e plutone si trova in quadratura al medio cielo con i tre pianeti importanti cioè sole luna congiunti e venere in decima casa parla proprio di un momento di subbuglio e di crisi dal punto di vista di vista politico cioè il potere la parte del potere viene decisamente messa in discussione quindi luna nuova e luna piena particolarmente intensa perché mi soffermo sul concetto del potere perché questo sarà un periodo nel quale appunto la grande quadratura che abbiamo già visto diverse volte scusate video verità già visto diverse volte nel 2021 e all'inizio del 2022 tra saturno e urano si ripresenta di nuovo in questo caso a 18 gradi del segno dei due segni rispettivi urano in toro segna proprio la rottura di quelli che sono le forme di stabilità di stabilità la nostra la nostra routine il toro è il segno della routine soprattutto economica familiare e territoriale quindi questo questo urano in toro va a rompere le no la nostra comfort zone saturno in acquario è proprio il simbolo della ricerca dell'indipendenza della ricerca della libertà l'acquario un segno della libertà saturno è un segno è un simbolo di rottura quindi questo scontro di nuovo tra l'altro avviene proprio nel centro del segno dei due rispettivi segni zodiacali perché se ne sono di 30 gradi qui avviene a 18 gradi diciamo che appunto è un momento di grandissima tensione amplificata dalla sosta di marte marte lo troviamo nel segno dei gemelli ci starà fino a marzo 2023 abbiamo visto come marte in gemelli è un marte che parla proprio di ribellione giovanile marte è un segno della guerra della ribellione proprio no dell'arrabbiatura i gemelli sono un segno legato proprio alla comunicazione alle telecomunicazioni e anche perché no alle manifestazioni sono un segno legato ai giovani all'adolescente ai giovani in generale agli studenti ecco gli studenti sono dei gemelli e soprattutto è legato proprio al parlare al comunicare quindi una comunicazione di grande rabbia di grande rottura ve lo vediamo già adesso in varie parti del mondo nonché ovviamente anche in italia stiamo vedendo le prime le prime manifestazioni ad esempio per combattere il caro bollente un altro aspetto importante che proprio questo marte si troverà in due mesi diciamo novembre ottobre novembre soprattutto ottobre ad essere per un diverso tempo in quadratura a nettuno perché come vedete marte si ferma a 25 gradi arriva fino a 25 gradi nettuno è a 23 gradi cosa vuol dire che nel mese di ottobre e poi di novembre marte farà parte al ventesimo grado arriva già subito intorno al 10 al ventitreesimo grado finisce il mese a 25 gradi ed è pronto con i primi anzi con l'ultimo giorno di ottobre col 31 ottobre a diventare retrogrado proprio a 25 gradi quindi nell'orbita di tolleranza considerata per la quadratura con nettuno marte quadrato a nettuno porta subbuglio porta confusione può portare anche adesso movimenti terrestri soprattutto in mare e porta proprio di nuovo da un lato è un transito un aspetto che porta confusione questo sì nettuno è spesso la confusione però è anche la confusione che si ribella e quindi amplifica la rabbia fino ad arrivare a dei gesti non controllati questo da entrambe le parti l'astrologia non giudica ovviamente non prende posizione questo è un aspetto molto importante nel frattempo vediamo comunque che continua per fortuna il sestile che è un aspetto di armonia tra nettuno e plutone anche se si sta un pochino allargando però direi soprattutto perché plutone smette di essere retrogrado con l'otto di ottobre e quindi si allarga un pochino questo 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 aspetto ma comunque si può considerare ancora un sestile questo è buono da un lato dall'altro però ricordiamoci che dove plutone è il potere quindi è anche la forza perché no della ribellione nettuno è l'ideologia quindi questi due aspetti si uniscono bene ovviamente però ricordiamoci che insomma può amplificare nell'immediato quella che è l'esplosione io credo sempre che un'esplosione quando è da fare è bene che ci sia è ovvio che nell'immediato può essere un momento di difficoltà dal punto di vista delle specifiche situazioni soprattutto economiche è chiaro che un urano in toro va proprio a rompere quella che è la stabilità che noi ci portiamo avanti da anni nei quali viviamo l'economia nella medesima modalità saremo costretti e questo è saturno in acquario a trovare delle alternative le troveremo non vi preoccupate nettuno in se stile a plutone in questo caso ci aiuta moltissimo però è chiaro che questo aspetto di momentanea rottura ci sarà giove che abbiamo visto dal mese di maggio essere entrato nei primi gradi nella prima decada del segno dell'ariete con il 29 di ottobre si ritorna nell'ultimo grado del segno dei pesci quindi da qui fino quasi alla fine di dicembre sarà negli ultimi gradi del segno dei pesci e quindi porterà gioia ai segni d'acqua nati negli ultimi gradi questo fa bene soprattutto al cancro che invece chi è nato negli ultimi giorni del segno del cancro si sta beccando ancora un plutone che dà molto fastidio in opposizione per cui ha alleviato un po' di fatica con giove che a questo punto diventa intrigono è vero che giove in ariete ci preoccupava di più dal punto di vista degli scontri non ci dimentichiamo che giove in in pesci comunque molto idealista quindi l'ideale l'idealizzazione per il quale si lotta e si protesta ovviamente viene anche addirittura amplificato venere ha fatto fa il suo percorso in questo mese assolutamente normale nel segno della bilancia tra l'altro si trova benissimo perché venere in bilancia un'esaltazione poi con il 24 di ottobre giorno tra l'altro del mio compleanno entra nel segno dello scorpione e quindi per qualche giorno va a braccetto infatti nella luna nuova del 25 di ottobre lo troviamo proprio venere proprio congiunta alla luna al sole questa cosa ci fa piacere mercurio è stato retrogrado non è più retrogrado dal giorno 3 di ottobre per cui finisce il suo percorso agli ultimi gradi della vergine e già con l'11 di ottobre ritorna nel segno della bilancia dove finirà il mese non è vero perché il mese il 30 sbagliato il 30 di ottobre entra anche lui nel segno dello scorpione quindi con la fine del mese abbiamo tantissimi pianeti nel segno dello scorpione segno mercuriale esattamente come mart come i gemelli nel quale si trova mart quindi questi sono aspetti molto importanti ecco direi che insomma questi momenti sono decisamente insomma da assegnarsi e adesso per chi chi ha acquistato poi per la macelloroscopo segno per segno ciao 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 ciao